ciao ragazze buongiorno a tutte e a tutti come state spero bene quasi mezzogiorno comunque vabbè niente dunque oggi è domenica sì vero mi sembra di sì oggi è domenica sono un po fuori perché nel senso che non ricordavo che il giorno fosse non importa cos'è sta roba che ho messo qui scusate vedevo una cosa strana non capivo cosa fosse comunque vabbè niente oggi sono in casa non sono uscita neanche per andare a messa ma vabbè dettagli e mi sto guardando mela verde nulla volevo dirvi semplicemente che dopo questo video vorrei fare il video make up se riesco oppure video di make up non so quanto riuscirò e se riuscirò però intanto voglio provarci e voglio riuscirci a tutti i costi a tutti i costi no però vediamo se riesco a fare qualche video di trucco prima levo la faccia perché così sono inguardabile già lo so che sono inguardabile sta uscendo una luce che veramente ma con la madonna palco se sembro cosa c'è qua niente non lo sto parlando con nessuno vedo che c'è qualcosa che mi disturba mentre sto facendo il video no mia non c'è già ve lo dico è andata a messa ve l'ho accennato già da quando ho iniziato a aprire il video la registrazione e che dirvi niente era solo perché volevo portarvi un po' di compagnia e anche perché tra poco devo pulire la mia stanza quindi non so bene se pulirò io la mia stanza o la faccio pulire direttamente da mia nonna quindi anzi prima che viene mia nonna deve venire mio zio portarmi delle cosucce vabbè non credo che mi interessino però vabbè niente e a mezzogiorno anzi deve essere qui non so neanche se sia a mezzogiorno ma presumo di sì e quindi niente io a breve dovrò aspettare mio zio non so quando neanche verrà se a mezzogiorno giusto o meno ma vabbè dettagli niente intanto qua mi vedete seduta sul mio bel divano e nulla tutto qua bene ragazzi questo era tutto quanto e nulla buona domenica e a presto ciao aspettate che voglio vedere quanto sto registrando solo due minuti di video vabbè niente come l'ho detto che dirvi nel frattempo sto curando mela verde e mela verde a me piace un botto quindi top fenomenale fantastico nulla ragazzi io adesso vi saluto ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video ragazze ciao 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 ciao